Salaria bloccata e non solo, in seguito alla protesta degli abitanti della zona, stanchi del cattivo odore che arriva dall'impianto che si trova sulla salaria, il TMB. Il traffico è impazzito con ripercussioni anche sulla circolazione veicolare nel resto della città. I cittadini della zona stanno protestando e quindi stanno impedendo l'ingresso dei mezzi nell'impianto. Queste le conseguenze sulla circolazione veicolare, il traffico è letteralmente impazzito. Grazie.